Danilo Zeta su Facebook. 7 luglio 2017. Ambiente, il nuovo articolo 18 di Renzi e Gentiloni. Liberismo e barbarie. Governo smonta valutazione impatto ambientale. Pubblicato oggi di LGS. Con il decreto legislativo sulla via, valutazione impatto ambientale, pubblicato oggi in gazzetta ufficiale il governo smonta le procedure di valutazione di impatto ambientale. Come accaduto per il lavoro anche le norme a tutela dell'ambiente sono oggetto di un attacco sistematico da parte del PD. Per una coincidenza assai simbolica è nell'articolo 18 del decreto che troviamo una norma con cui PD e alleati centristi esprimono la propria impostazione iperliberriste che vede nelle regole che delimitano l'esercizio dell'attività imprenditoriale un ostacolo da distanza. In sostanza la via, valutazione impatto ambientale, viene neutralizzata dato che viene introdotta la possibilità di farla in sanatoria. Una procedura che per motivi evidenti a natura preventiva diventa per legge aggirabile. Chiunque si sia occupato di tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico leggendo il vergognoso, 3 dell'articolo 18 si può rendere conto degli effetti devastanti che produrrà questa norma degna di Trump. Le imprese potranno realizzare i loro progetti, senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica. In caso ci si accorga che manca la via, valutazione impatto ambientale, invece di bloccare le opere la si potrà fare in sanatoria. Cioè prima si produce un danno irreparabile e poi facciamo al massimo qualche multa che le imprese avranno già messo in preventivo in caso di controlli. Inquinatori e cementificatori staranno già brindando. Come denuncia il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua nel decreto viene anche previsto che per le nomine nei comitati via, valutazione impatto ambientale, non saranno più necessarie procedure concorsuali e quindi aumenterà ancor di più l'arbitrario controllo della politica che non dovrà neanche far finta di tenere conto delle competenze. Il nostro paese ha sofferto per la carenza di controlli non certo per un eccesso. Quanto al liberismo e barbari e il PD oggi non è secondo a Berlusconi e la buona educazione di Gentiloni serve solo a rendere meno irritante la politica di destra di questo governo. Mobilitiamoci in tutto il paese contro questa porcheria. Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Fondazione Comunista, Sinistra Europea.